Campionato nazionale Poker Club Lottomatic, facciamo un giro tra i tavoli durante questo primo livello, vi ricordo i bui sono 25,50, 45 minuti la durata del livello e stack iniziale di 20,20 mila. Sono per il momento 10 tavoli, quindi 90 iscritti, gli presenti, attenzione seguiamo, cerciamo l'innoio. C'è già un piatto molto corposo, vi leggo il board, 3 di cuori, 2 di picche, 5 quadri e 10 di quadri, un piatto che si aggira al momento intorno ai 10k direi. Sembra quasi che ci possa essere il call, un board che offre diversi spunti sia per la scala sia per il colore, è possibile la scala già completata. Certo, il torneo è appena iniziato, ora vedremo, sembra proprio che passerà. Infatti viene girata la scala, con tra l'altro anche 4 quinti di colore, quindi giustificata. Grande fold per il set D3, ricordiamo comunque farlo iniziato. Noi vi diamo l'appuntamento per i prossimi video, nel frattempo seguiteci su Poco d'Italia Web con il live vlog.